operazione della guardia di finanza nel nisseno sequestrati prodotti contraffatti droga arrestato un ventenne sequestrato un chilogrammo di hashish va al funerale di un amico si accascia e muore a pochi passi dalla cattedrale elezioni 2024 analisa appetito candidata sindaco di caltanissetta l'annuncio durante la presentazione dell'associazione cl tutta la vita real maestranza passaggio di consegne l'emozione del nuovo capitano giuseppe mangione sport calcio gela vittorioso nel derby con la nissa decide un gol di damico nel finale bentrovati operazione della guardia di finanza nel nisseno sequestrati prodotti contraffatti il comando provinciale della guardia di finanza di caltanissetta ha intensificato in occasione del periodo di carnevale le attività di controllo prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori nelle ultime settimane le fiamme gialle hanno individuato più di 11.000 prodotti non sicuri comprese accessori per il carnevale oggettistiche giocattoli privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi in violazione del codice del consumo e della speciale normativa di settore i succitati prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l'uso le operazioni di servizio condotte dalla guardia di finanza confermano il costante impegno del corpo nell'attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri a tutela del mercato delle imprese regolari e dei consumatori finali droga arrestato un ventenne a gel ha sequestrato un chilogrammo di hashish un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di stato dopo una perquisizione in cui gli è stato sequestrato circa un chilo di hashish nascosto in casa i poliziotti del commissariato di gel in provincia di caltanissetta lo hanno tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti l'episodio si è verificato venerdì scorso quando la polizia di stato nel corso di un controllo eseguito in una via del centro storico di gela ha fermato il giovane che transitava a bordo della propria auto notando subito un evidente stato di agitazione manifestato dal ragazzo lo stesso è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare nell'abitazione del ragazzo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di hashish in parte in panetti e in parte già confezionata e pronta per lo spaccio un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi il ventenne è stato condotto subito negli uffici del commissariato di polizia il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora gela caltanissetta va al funerale di un amico si accascia e muore ha accusato un malore si è accasciato ed è morto l'episodio si è verificato sabato scorso poco prima delle 15 e 30 a caltanissetta aldo michele mancuso 74 anni ha perso la vita mentre si recava per l'ultimo saluto al funerale dell'amico pippo grosso l'ambulanza del 118 avvisata subito dei presenti è arrivata tempestivamente sul luogo ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare tra i primi a intervenire ci sarebbe stato proprio il figlio dell'amico deceduto i sanitari hanno tentato di tutto per rianimare l'uomo ma è stato tutto vano l'uomo pensionato di 74 anni noto nel capoluogo nisseno lascia la compagna e due figli il funerale lunedì alle 15 e 30 alla chiesa di san paolo a caltanissetta elezioni 2024 annalisa petitto candidata sindaco di caltanissetta l'annuncio durante la presentazione dell'associazione cl tutta la vita sabato mattina è stata presentata l'associazione cl tutta la vita presieduta da antonio montagnino ex senatore e segretario della cisle di caltanissetta nello stesso contesto è stata ufficializzata la candidatura a sindaco di annalisa petitto alla presentazione hanno preso parte molte persone i rappresentanti di alcune associazioni presenti in città e altri membri di diversa formazione politica l'associazione si dichiara aperta al dialogo con quei partiti che accettano i valori fondanti spazio a tutti coloro che si danno da fare per le sorti della città con grande slancio e determinazione come i rappresentanti di altre associazioni gli appartenenti ad ordini professionali esponenti del terzo settore e i singoli cittadini che condividono gli obiettivi del nuovo progetto da oggi c'è un nuovo soggetto politico in città è un'associazione che non ha appartenenze partitiche ma che certamente è politica è un'associazione che si presenta alla città in maniera schietta in maniera trasparente in maniera leale con un programma tutto da costruire per insieme alla città i cittadini tutti i comparti dei settori della città tutti i cittadini possono partecipare non c'è nessun tipo di preclusione nei prossimi giorni apriremo una pagina social in cui coloro i quali vorranno iscriversi nel vero senso della parola potranno farlo pubblicizzeremo tutte le attività che avvieremo da questo momento in poi e liberamente si potrà partecipare a tutti quegli incontri che saranno pubblici saranno tra la gente per la gente in mezzo alle strade e il minimo che possiamo garantire a questa città la totale trasparenza non solo nelle persone ma soprattutto nei metodi primarie pd per il rinnovo della segreteria nazionale vediamo come è andata anche nel nisseno e lish line la nuova segretaria nazionale del partito democratico lo ha sancito l'esito delle primarie del pd svoltesi questa domenica la prima donna con questo ruolo e che guiderà il partito dopo errico letta e lish line a seguito delle elezioni del 25 settembre 2022 è stata eletta deputata della repubblica italiana ma anche ricoperto precedentemente l'incarico di euro parlamentare dal 2014 al 2019 in sicilia spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di elish line con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di stefano bonaccini si legge nel comunicato stampa del partito democratico siciliano inviato a fine serata su un totale di più di 55 mila votanti questi sarebbero i risultati dunque nelle varie federazioni provinciali in quella di siracusa e lish line ha ottenuto 2.786 voti mentre il candidato stefano bonaccini 2.172 in quella di palermo 6.487 per lei rispetto ai 3.658 del suo avversario enna 4.102 bonaccini 2.385 catania per schline 6.299 voti e per bonaccini 3.027 in quella di caltanissetta 2.945 per ellish line e 1.963 per stefano bonaccini trapani ancora in testa con 2.167 voti mentre 1.650 per stefano bonaccini maggiori preferenze invece per stefano bonaccini nelle federazioni provinciali di agrigento dove al momento dell'invio del comunicato stampa con i dati mancavano ancora alcune sezioni e il candidato si attestava 2.801 voti rispetto ai 2.493 di schline ragusa 2.687 contro 1.356 della candidata e infine messina bonaccini 3.062 voti e schline 2.809 Precari Covid parla il presidente della regione Renato Schifani Continua a essere attenzionata da parte della politica regionale la situazione dei sanitari e dei parasanitari che sono stati assunti durante l'emergenza Covid. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova area di emergenza del Policlinico Paolo Giacone di Palermo ha disegnato il futuro dei tanti lavoratori in attesa di una risposta da parte dell'esecutivo siciliano. È chiaro che la visione di questo governo è quella di data la cronica assenza di figure sanitarie e parasanitarie lo sappiamo tutti quindi la tendenza è quella di utilizzare queste figure sanitarie e parasanitarie nell'ambito dei voti di organico nell'ambito anche della sospensione dei concorsi in essere per privilegiare chi già ha lavorato e svolge una funzione della quale la regione ha bisogno. Per quanto riguarda gli amministrativi invece la situazione delineata è piuttosto articolata lo ha chiarito lo stesso governatore parlando di una valutazione della loro posizione in seguito a un confronto con l'assessore alla salute Volo. Sul campo degli amministratori il problema è un po' diverso perché sono stati assunti per una funzione che oggi non c'è più sostanzialmente quindi ho voluto io a fine dicembre assieme all'assessore Volo una prova di due mesi per verificare le possibilità di inserimento ci confronteremo con l'assessore se queste possibilità di inserimento si sono maturate in questi due mesi o non si sono maturate. Covid nel Nisseno 26 positivi nell'ultima settimana 8 a Caltanissetta. Il Covid-19 continua a essere monitorato nella provincia di Caltanissetta. Nell'ultima settimana ci sono stati 26 pazienti positivi al coronavirus tutti in isolamento domiciliare così suddivisi nella provincia Nissena. 8 pazienti di Caltanissetta, 8 di Gela, 2 di Butera, 2 di Mussomeli, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Mazzarino, 1 di San Cataldo, 1 di Serra di Falco e 1 di Vallelunga-Pratameno. I ricoverati in degenza ordinaria sono 5 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia. Mentre sono stati dimessi dalla degenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di San Cataldo, 1 di Sutera, 1 di Niscemi e 3 provenienti da fuori provincia. Infine i guariti sono 14 pazienti a Gela, 9 a Caltanissetta, 2 a San Cataldo, 1 a Mazzarino e 1 a Serra di Falco. Real Mestranza, tempo di passaggio di consegne, l'emozione del nuovo capitano Giuseppe Mangione. Dopo tre anni ritorna la cerimonia del passaggio delle consegne tra le cariche capitanali delle categorie entrante e uscente della Real Mestranza, un evento che è stato caratterizzato dalla commozione, quella che ha riempito il cuore delle nuove cariche pronte a partecipare alle processioni, del nuovo capitano e il maestro Giuseppe Mangione nel leggere il suo discorso. Un'emozione condivisa anche da chi c'è del testimone dopo tre anni da quello ormai lontano 2020, quando in quello stesso teatro Regina Margherita aveva ricevuto la spada e la feluca. Sono stati tre anni di fidanzamento però il matrimonio è riuscito benissimo. Ci faccio i miei auguri che è una cosa meravigliosa fare il capitano della Real Maestranza ed è un impegno che dopo 500 anni è una responsabilità che dobbiamo portare avanti con amore e detenzione anche perché c'è il lato religioso. È un'emozione che ancora mi vengono i brividi, sia il mercoledì che il saluto al Signore della città. Molto emozionante, guardi. Il 116esimo capitano della Real Maestranza ha dato dunque il suo saluto alla città. È un'emozione che mi veniva da piangere. Io ho sempre sognato di fare il capitano data quanto avevo forse 20 anni di quanto frequento la Maestranza. Finalmente stiamo riuscendo. Dopo aver ricevuto le armi, la fascia tricolore, firmato l'albo d'oro dei capitani, il maestro mangione della categoria idraulici lattonieri si prepara adesso a vivere un altro momento particolarmente atteso nel giorno della processione. Portare il cocevizzo, guardarlo negli occhi il cocevizzo. Durante la cerimonia si sono susseguiti gli interventi delle autorità presenti ed è stato effettuato il passaggio di consegne anche tra gli scudieri, alfieri maggiori e portabandiera storica, mentre simbolico tra portabandiera e labbardieri in attesa di tutti gli altri passaggi che avverranno durante la cerimonia del 4 marzo. Consegnato l'omaggio floreale alle mogli dei due capitani entrante e uscente e la medaglia d'oro al decano della categoria, il maestro Angelo Palermo. Il ricordo dei capitani della Real Maestranza scomparsi, momenti di commozione al Teatro Margherita. Le autorità, le cariche capitanali, entranti e uscenti, tutti i rappresentanti della Real Maestranza presenti sul palco del Teatro Regina Margherita. L'intera sala si è alzata in piedi durante la cerimonia del passaggio delle consegne, domenica 26 febbraio, per un momento di commemorazione e per rendere omaggio a chi non c'è più. Numerosi professionisti ricordati dal gran cerimoniere della Real Maestranza Gianni Taibbi. Ci guardano dall'alto. Comincio con il maestro Filippo Catrini della categoria Barbieri Accoggiatori, il cavaliere Pasquale da Montana, capitano della Real Maestranza 1998 della categoria Calzolaipi, dentieri e tappezzieri, maestro Michele Tesimone della categoria Moratori, maestro Guglielmo Vincitore della categoria Falegname e Baristi, maestro Salvatore Di Piazza della categoria Moratori, maestro Lirio Andalora della categoria Calzolaipi, dentieri e tappezzieri, cavaliere Angelo Jannello, capitano della Real Maestranza 1991 della categoria Italo Gelattonieri, maestro Umberto Salermo della categoria Marmisti, cavaliere Salvatore Di Giugno, capitano della Real Maestranza 2006 della categoria Falegname e Baristi, Pasquale Marmiana, capitano della Real Maestranza 1994 della categoria Moratori, maestro Ettore Di Martino della categoria Moratori, maestro Salvatore Cataldo della categoria Italo Gelattonieri, maestro Antonio Morifaggio della categoria Barbieri Accoggiatori, maestro Luigi Passano della categoria Barbieri Accoggiatori, maestro Michele Scaluto della categoria Barbieri Accoggiatori, maestro Ercolino Grifone della categoria Panificatori Pasticciere e Cuochi, maestro Salvatore Co della categoria Falegname e Baristi, maestro Di Fonti Ignazio della categoria Falegname e Baristi, maestro Vincenzo Costa della categoria Ferraglioli Carpentieri, maestro Michele Salvatore Giannone della categoria Panificatori e Pasticciere e Cuochi. Se ne consentite io voglio aggiungere la scombarsa ricordato ai giornalisti di Caltania Setta, che sono sempre stati molto vicini alla Real Maestranza, sono Pippo Grosso e Lino Lacanina. Grazie. Applausi Tra le bare in preghiera, presentazione dell'iniziativa nella sala espositiva di Via Napoleone Colaianni a Caltania Setta. Venerdì sera, alla sala espositiva delle bare Sita in Via Napoleone Colaianni, l'Associazione Giovedì Santo ha presentato la prima edizione del festival Tra le bare in preghiera, che si svolgerà fino al 18 marzo tra la sala espositiva e la Cattedrale Santa Maria la Nova. La rassegna ideata dal nuovo direttivo presieduto da Arcangelo Giammusso prevede una serie di eventi religiosi e culturali. Nel primo appuntamento, dopo la Via Crucis presieduta dai parroci di San Luca, Santa Rosania, San Pio X, Sacro Cuore e Cozzudinaro, alla fine si è tenuto il musical Voci sotto le croci, regia di Francesco Miceli. Voci sotto le croci è uno spettacolo che racconta la passione di Gesù con rapidi flash quasi di stampo cinematografico che richiamano una per una tutte le bare presenti e tutte le bare che raccontano non solo la storia di Gesù ma anche la storia di una città, la storia di Caltanissetta. Ci riempie di emozione che per la prima volta venga fatto uno spettacolo teatrale all'interno della sala espositiva che accoglie ormai da decenni i gruppi sacri del Giovedì Santo e ci riempie di gioia ma anche di un'emozione davvero profonda. è come se tutte le statue presenti cantassero e danzassero insieme a noi. Questo spettacolo rappresenta un po' la passione di Cristo, sicuramente la particolarità sta nell'ambientazione perché ci troviamo dentro un gioiello della nostra diocesi che è il museo appunto delle bare ed è ritengo la prima volta che le bare assistano ad un processo così bello di canti e balli e quindi è assolutamente una novità. Spero che riscuota un discreto successo e siamo qui a gioire di questo evento. Sport, calcio serie D, trasferta da dimenticare per la San Cataldese. È terminata con una sconfitta la partita della San Cataldese nel salotto del Santa Maria Cilento a Castellabate in provincia di Salerno. La squadra di casa si è imposta per 2-0 grazie alla doppietta di De Marco. Una vittoria che ha permesso alla squadra giallorossa di raggiungere proprio Verdamaranto in classifica a 34 punti in condominio anche con la Vibonese sconfitta a domicilio dal città di Sant'Agata. Il Canicattì, soltanto una lunghezza dietro a 33 punti, chiude la parte centrale della classifica. Questi i risultati della venticinquesima giornata del girone I di serie D. Trapaneci Reale 1-1, Santa Maria Cilento San Cataldese 2-0, Ragusa La Mezzia Terme 0-0, Realla Versa Castrovillari 0-1, San Luca Canicattì 1-0, Mariglianese Locri 0-3, Vibonese Città di Sant'Agata 2-3, Catania Paternò 2-0, Licata Cittanovese 1-1. Per una classifica che vede sempre il dominio incondizionato del Catania a 66 punti, seguito sempre da Locri a 49, Città di Sant'Agata 48, La Mezzia Terme 40, Trapani, Licata 39, Vibonese, Santa Maria Cilento, San Cataldese 34 punti, Canicattì 33, Castrovillari 29, San Luca Ragusa 28, Acireale 27, Realla Versa 24, Cittanovese 23, Paternò 21, chiude la Mariglianese a 17 punti. Campionato di eccellenza, Gela vittorioso nel derby con la Nissa decide un gol di D'Amico nel finale. La maledizione dei minuti finali si abbatte ancora sulla Nissa, che esce dal Vincenzo Presti sconfitta nel derby contro il Gela per una rete a zero. La società biancoscudata, rimasta in 10 nel primo tempo per l'espulsione del cenocambista di Biase, ha avuto alcune palle gol non sfruttate dai propri attaccanti. Partita a tratti contratta, con ambedue le squadre che cercavano il varco giusto per vincere la partita. Nei minuti finali di gara il varco giusto lo trova il Gela, che con D'Amico riesce a trovare il gol vittoria superando il portiere biancoscudato Chimenti. Ancora una volta gli uomini di Alessio Sferrazza vengono superati nei minuti finali, sindomo di una squadra che non riesce a rimanere concentrata sino all'ultimo minuto. Eccellenza Cilone A 23 giornata Castellammare Casteldaccia 3 a 0 Cus Palermo Mazzara 1 a 1 Parmon Valciacca 3 a 4 Don Carlo Misilmeri Resuttana 5 a 0 Enna Leonfortese 0 a 0 Nuova Città di Gela Nissa 1 a 0 Profavara Acragas 0 a 1 Mazzarese Oratorio San Ciro e Giorgio 2 a 1 La classifica Enna e Acragas 55 punti Profavara 48 Don Carlo Misilmeri 44 Mazzarese 41 Mazzara 39 Sciacca 38 Casteldaccia e Nissa 28 Leonfortese e Oratorio San Ciro e Giorgio 25 Castellammare 21 Nuova Città di Gela 19 Resuttana 17 Cus Palermo 16 Chiude la Parmon Val a 8 Volley serie B2 femminile Alba Verde e Caltanissette Terza vittoria consecutiva Al Palacanizzaro L'Alba Verde conferma il trend stagionale Con l'ennesimo 3 a 0 Casalingo Il terzo consecutivo Battendo la Gioiosa al termine di una gara Che nel finale ha rischiato di complicarsi la vita Le pallavoliste Nissene si giudicano agevolmente i primi due set Mentre nel terzo set le ragazze di Francesca Scollo Sembravano avviate ad un finale di gara tranquillo Ma la Gioiosa ha provato a rimettere in discussione l'esito dell'incontro Il set è stato giocato punto a punto dalle due formazioni Fino all'ultimo attacco su servizio avversario Finalizzato da Martina Escher Con un'azione costruita sui canoni classici della pallavolo Appuntamento al prossimo match a Crucoli In provincia di Crotone Dove affronterà la Fidelis Torretta Attualmente quarta a quattro lunghezze Dalle Nissene Beh sai, oggi era davvero importante Perché oggi c'era una signora squadra A cui mancava oltretutto una componente fondamentale Della loro squadra, questo da dire Anzi, siamo una componente fondamentale Comunque noi abbiamo tenuto bene Era tutta la settimana che abbiamo molto entusiasmo E c'è un certo entusiasmo nel giocare, nell'allenarsi Quindi tutto questo ha portato a questo bel risultato Il nostro obiettivo è quello di mantenere questa strada Fino alla fine del campionato Purtroppo ci sono stati dei passi falsi che abbiamo fatto Che non ci hanno permesso di stare dove avremmo voluto essere Ma l'obiettivo rimane sempre quello di fare comunque bene Per cercare di stare più in alto possibile Volley, serie B2, girone M, diciassettesima giornata Stefanese Fidelis Torretta 2 a 3 Albaverde Gioiosa 3 a 0 Cus Catania Planet 3 a 0 Funivia Etna Ardens Comiso 3 a 0 Pallavolo Crotone Bricositi 3 a 0 Procorie Ricina Saracena 3 a 0 La classifica Zafferana 44 Pallavolo Crotone 41 Albaverde 40 Procorie Ricina e Fidelis Torretta 36 Gioiosa e Cus Catania 30 Saracena 25 Volley Regione e Funivia Etna 21 Bricositi 13 Stefanese 9 Ardens Comiso 7 Chiude la Planet a 4 Basket La Cusn vince e convince a Gela Ora testa al Priolo Nell'ostico parchè di Gela La Cusn Caltanissetta riesce a vincere e a convincere Dando una buona prova di carattere in un match combattuto sino alla fine Partono forte i gelesi che fanno valere la loro fisicità E la Cusn invece paga l'assenza sotto canestro di alcuni suoi gestisti Ma dove manca l'altezza il cui indetto nisseno riesce a mettere altra velocità ed esperienza Riuscendo a svoltare la gara nel terzo tempo portando poi la gara dalla propria parte Il Gela ci prova sino alla fine a riportarsi sotto Ma la squadra nissena riesce a resistere e a portare a casa due punti pesanti Consolidandosi al secondo posto e a sole due lunghezze della capolista Ragusa Battuta fuori casa dalla Salusport Prossima avversaria della squadra nissena Basket, promozione, girone D, seconda giornata del terzo turno Salusport, Olimpia Ragusa, 76-46 Nuova città di Gela, Cusn, 61-64 Riposa, Fenice e Priolo La classifica Olimpia Ragusa, 6 Cusn e Salusport, 4 Nuova città di Gela, 2 Fenice e Priolo, 0 E' tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo Bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì Che attenzione vedrà sempre attivo questo centro di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale che manterrà l'atmosfera particolarmente instabile soprattutto al centro-sud ed è alimentato da aria fredda in arrivo dall'Europa orientale E così per quanto riguarda la nuvolosità Troveremo ancora parecchie nuvole in gran parte d'Italia Ma la nuvolosità un pochino più minacciosa in termini di precipitazioni Sarà quella che interesserà al centro-sud Lo vediamo in effetti anche dalla previsione delle piogge Che stanno abbastanza insistenti in Sardegna Ma piano piano anche nel resto del centro-sud arriveranno piogge abbastanza diffuse con la neve sull'Appennino Quindi in definitiva ci attende un martedì che purtroppo, lasciatevi dire purtroppo, al nord ancora non vedrà grandi precipitazioni Anzi, non mancheranno anche delle belle aperture Invece l'atmosfera molto instabile al centro-sud e soprattutto la seconda parte del giorno Con il ritorno appunto di pioggia a Quazzoni Forse addirittura anche di qualche temporale, quindi piogge che localmente potrebbero essere piuttosto intense Occhio anche al vento che soffierà sostenuto in diverse zone dell'Italia Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno, Scarantino, via Paolo e Emiliani Giudici